Il ricongiungimento con la troupe ed ecco a voi l'autore della videocamera La nostra guida Prego, prego Intervista Ah ma allora ti sei svegliata Il cappuccino ve lo fa miracoli Valdo ma come ti ho preso bellino guarda Pellino Andiamo anche a te con Marco Vai Marco è concentrato Abbiamo Sebastiano che si riseta Buongiorno Ciao caro Ecco Papela che si avvicina pure La piccola del gruppo Che senso piccolo Non mi spettaccio Sicuramente la trampa piccola Bene 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 Comunque si No mi spettaccio E' La piccola del gruppo Bellissimo! Bellissimo! Hello Bye-bye . . . . Grazie.